Salve, sono il professor Manna, direttore del centro Biofertility di Roma. Oggi vi vogliamo spiegare come funziona e si applica l'anello di Nuvering. Eccolo qui. Adesso una mia collaboratrice vi mostrerà esattamente come si applica e come funziona. Il Nuvering è un anello vaginale flessibile a base di estroprogestinici che ha la funzione di preparare al meglio utero e ovaie alla stimolazione. Ad esempio non facendo sviluppare cisti prima di iniziare il tentativo. L'anellino va inserito nell'applicatore apposito, così. Successivamente l'applicatore, così come si fa per gli assorbenti interni, andrà inserito in vagina. Premiamo lo stantuffo e l'anello si posizionerà autonomamente in vagina adattandosi bene alle pareti di quest'ultima. In seguito al suo inserimento l'anello non darà fastidio, non se ne sentirà alla presenza e non creerà alcun problema durante i rapporti sessuali che si potranno dunque avere normalmente. Il Nuvering non potrà andare in nessun'altra parte se non restare in vagina. L'inserimento lo farà lei stessa in genere il secondo giorno del ciclo e dovrà essere poi sua premura comunicarci l'avvenuto inserimento, così da ricevere nostre successive indicazioni per quanto riguarda i tempi di utilizzo e le eventuali sostituzioni successive. L'anello potrebbe dare nei primi mesi di assunzione qualche dolorino simil mestruale, spotting, vale a dire piccole perdite di colore marrone, rosso, scuro, che potrebbero durare pochi giorni o anche per tutta la durata dell'utilizzo e questo può essere normale. Le perditine non ne compromettono l'efficacia, purché venga mantenuto in sede seguendo attentamente le nostre istruzioni, queste. Per la rimozione del Nuvering andrà inserito un dito in vagina, uncinato l'anello ed estratto semplicemente. La mestruazione arriverà dopo circa tre o quattro giorni dalla rimozione dell'anello. Qualche rara volta può ritardare, ma basterà comunicarcelo e può essere normale. Utilizzando perciò tale dispositivo, il ritmo del vostro ciclo normale subirà una modificazione. Mestruazione, infatti, mentre si ha il Nuvering, è impossibile che torni il ciclo a quello vero, che ribadiamo, arriverà solo dopo la rimozione. Anche come quantità può essere minore. Può darsi che vi chiederemo di sostituire uno degli anelli con un altro per ritardare la mestruazione. Tutto questo è calcolato per voi ed esclusivamente per voi. Naturalmente, per chiarimento ulteriore, chiamate o scrivete i miei collaboratori e io stesso siamo disponibili per personalizzare al massimo i trattamenti. La personalizzazione, infatti, è il vero segreto del successo. Grazie per la vostra attenzione.